Torna anche quest'anno la raccolta di giocattoli in favore del reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Bari. A promuoverla il Circolo Acli San Nicola Pellegrino di Trani, che donerà giocattoli ai bambini ricoverati nei reparti del Policlinico. Un momento di gioia in previsione del Natale, in grado di portare il sorriso in reparti in cui i piccoli pazienti e adolescenti combattono la loro battaglia per la vita. Noi come Circolo Acli San Nicola Pellegrino di Trani, il gruppo giovani si è impegnato in questo che sarà la seconda edizione di Regala un giocattolo e cercheremo di donare un sorriso a tutti i bimbi che si trovano in un reparto molto difficile come quello di onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Tra l'altro quest'anno stiamo cercando di arrivare anche agli adolescenti che vivono in questo reparto attraverso buoni Amazon, attraverso giochi per la Play, controller per la Play, trucchi per le ragazzine, parrucche. Insomma abbiamo ampliato un attimino questo progetto e comunque vogliamo arrivare anche ai bambini della società civile che non versano in situazioni di agio. Un momento di solidarietà non solo per i piccoli pazienti del reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Bari ma anche per i bambini che vivono una situazione di difficoltà economica familiare realizzato grazie alla collaborazione degli imprenditori che con un piccolo gesto donano un grande momento di gioia e speranza a chi ha tanta voglia di futuro. Momenti importanti per organizzatori e famiglie saranno la giornata di raccolta in uno storico negozio di giocattoli di Trani e l'evento conclusivo che si terrà il 10 dicembre dalle ore 18 nell'auditorium della parrocchia San Magno di Trani. Nel mio piccolo io personalmente ma anche tutti gli altri abbiamo dato una quota contributiva all'associazione che poi naturalmente ha naturalmente fatturato e questa quota viene spesa appunto per l'evento stesso e per la raccolta giochi naturalmente oltre ad acquistare giochi tutti quanti noi in famiglia, tre amici, tre conoscendi, io per esempio questo mio figlio e i suoi amici sono sette o tre ragazzi a partecipare l'otto dicembre presso la giotica di Trani dove con Vittorio Cassinesi raccoglieremo i giochi dove cercheremo di sensibilizzare le persone che vengono ad acquistare un gioco per il bambino beh questa volta ne compri due e uno lo de a me che è un bambino meno fortunato. È necessario spiegano infine gli organizzatori che i giocattoli donati siano nuovi e ancora chiusi nella confezione essendo destinati a bambini adolescenti ricoverati nel reparto di oncoematologia del policlinico in cui non possono entrare oggetti usati potenzialmente pericolosi per la salute dei pazienti. Abbiamo organizzato diversi punti di raccolta appunto per i giocattoli e ci sarà un evento conclusivo il 10 dicembre presso la parrocchia San Magno Vescovo e Martire a Trani per appunto concludere questa raccolta straordinaria e ci sarà anche uno show da parte del trio Mudu con Uccio De Santis, Umberto Sardella e Antonella Genga.